ed eccoci con l'ultima gara di oggi quella riservata alle super motardi in griglia Matteo Dolphin con il numero quattro parte in pola affiancato da Armando Narduzzi con numero due con numero ottocentosedici chiude la prima fila Francesco Batelli seconda fila per Romano Capecchi e Scardella terza per Parisi Gianni Alviti quarta per Castellano di Benedetto e Mezzetti quinta fila per Scucchi e Bianchi tra pochissimo il via con un bellissimo primo piano del Poleman Dolphin mentre c'è ancora la rossa fuori va via la bandiera rossa semaforo rosso partiti parte bene Dolphin inseguito da Narduzzi e poi si porta Romano in terza posizione attaccato subito Romano riesce a resistere in terza posizione adesso vediamo alla staccata della la prima staccata del tornantino con Romano che riesce a rimanere fuori a tenere la terza piazza alle spalle di Dolphin e Narduzzi siamo già alla conclusione del primo giro per le super motard con i primi due che tendono ad allungare in maniera concreta rispetto al gruppone ecco transitare Dolphin che è leader della gara davanti a Narduzzi Romano poi c'è Batelli alle spalle di Romano appena più indietro Scardella e Capecchi poi un terzetto formato da Gianni Alviti e Parisi situazione più interessante dal punto di vista lotta sembra essere quella tra Batelli e Romano con Romano in terza posizione Batelli alle sue spalle il distacco sul traguardo era di 276 millesimi va via Matteo Dolphin con Narduzzi alle sue spalle ecco passare Dolphin Narduzzi Romano Batelli Scardella Capecchi Gianni Alviti Parisi e il decimo che è Mezzetti poi di Benedetto Scucchi e Bianchi nell'ordine chiudono i 13 piloti in gara per questa gara 2 della super motard con Romano che ha preso qualche metro di tranquillità su Batelli sembrava addirittura aver ridotto il distacco da Narduzzi Narduzzi era al passaggio sul traguardo otto decimi e mezzo avanti a Romano vediamo se Romano ha ridotto realmente come sembra visivamente il distacco dalla seconda posizione con Batelli alle sue spalle ripeto erano otto i decimi tra Narduzzi e Romano transi dai leader Dolphin otto decimi invariato il distacco tra Narduzzi e Romano era soltanto un effetto ottico dovuto alla Narduzzi ha rischiato tantissimo nella destra della S nella parte iniziale della S abbiamo visto alzare il piede all'esterno per cercare di ritrovare l'equilibrio della motocicletta in questo tratto Romano si riavvicina Narduzzi soprattutto nel pezzo che immette alla parte centrale poi Narduzzi riesce di nuovo ad allungare anche se adesso il distacco di Romano mi sembra ridursi da 897 millesimi a 364 millesimi quindi l'errore nella S qui in questo momento dove è passato adesso Narduzzi che infatti è passato molto più piano rispetto al giro precedente nella S che precede l'immissione sul rettifilo lungo per cercare di rimanere più tranquillo con Romano che tende a ridurre il distacco Romano che ha girato 59.3 contro il 59.8 di Narduzzi nella quarta tornata adesso stiamo per completare la quinta con 59.1 Batelli alle sue spalle è stato il più veloce in pista quindi Romano deve sentire anche la pressione di Batelli dietro e quindi è costretto a spingere vediamo Narduzzi si è rimesso a girare forte 59.146 Romano 59.2 59.1 anche per Batelli con Narduzzi che ha portato a quattrocentosessantanove millesimi il vantaggio adesso ha perso ancora qualche cosina Romano rispetto a Narduzzi alle loro spalle c'è la coppia Scardella Capecchi Romano gira molto più sotto al cordolo qui nella destra che immette nel pezzo più guidato e quello gli consente di rimanere più vicino più attaccato alle spalle di Narduzzi distacco che era di quattrocentosessantanove millesimi nella conclusione del quinto giro adesso alla conclusione del sesto giro si è ridotto a due decimi considerate che lo stesso identico vantaggio ce l'ha Romano su Batelli alle sue spalle Romano che si è fatto vedere adesso nella sinistra che mette il rettifilo principale è rimasto molto più vicino del giro precedente a Narduzzi gli si è infilato anche all'interno in staccata ma non in modo così consistente da cercare l'attacco e ora dovrebbe ancora avvicinarsi con vedete che Narduzzi rimane sempre molto lontano dal cordolo nella destra che mette al tratto guidato mentre Romano si va praticamente a portare a bordo sul bordo esterno del cordolo taglia tantissimo in più e questo gli consente di ridurre il distacco mentre invece per esempio va via tantissimo adesso Narduzzi nella curvone probabilmente un problema per Romano che ha sentito mollargli l'anteriore ha dovuto chiudere il gas e adesso è a 6 decimi di distacco con Batelli che è lì a gestire la quarta posizione con Romano che fa un po' l'elastico con Narduzzi davanti e abbondantemente al comando Matteo Dolphin con ormai 3 secondi e 8 di vantaggio su Armando Narduzzi che guida questo terzetto che ora si presenta agli occhi dei degli spettatori sulla tribuna principale dell'impianto di Latina ha riserrato di nuovo Romano su Narduzzi poi qua invece Narduzzi riesce ad allungare leggermente nella parte iniziale del curvone Romano gli rimane un po' più vicino rispetto a prima e infatti adesso è di nuovo a 3 decimi di distacco ancora lontano dal cordolo sempre Narduzzi nella sinistra che immette alla lungo rettifilo della pista di Latina Romano in attacco decisissimo alla staccata del tornantino si fionda davanti poi in uscita adesso non riesce a sfruttare la traiettoria favorevole si tira dietro anche Batelli che va a scavalcare anche lui Narduzzi che perde due posizioni in pochi metri quando siamo alla conclusione del nono giro e adesso vediamo se Batelli cercare l'attacco infatti è così cerca l'attacco ma all'esterno deve stare attento anche al ritorno di Narduzzi Batelli Romano davanti al terzetto passeranno uno attaccato all'altro qui sul traguardo con Romano Batelli e Narduzzi in fila attenzione perché ne vedremo delle belle alla staccata in fondo al dritto si presentano all'ingresso con Romano che è a Batelli vicino perde qualche centimetro Narduzzi in staccata Narduzzi si avvicina a Batelli ma non può provare ad affondare il colpo seguiremo ancora i tre mentre il leader della gara sta andando a vincere Matteo Dolfin Romano ha preso qualche metro di tranquillità su Batelli Batelli che è sotto attacco comunque di Narduzzi mentre siamo alla conclusione della gara per Dolfin mentre Narduzzi ha cercato ancora l'attacco su Batelli attenzione perché non è finita tra tutti e tre vince Dolfin con Romano che sembra in grado e va ad aggiudicarsi la seconda posizione davanti a Batelli e Narduzzi grandissima gara per il terzetto che seguiva il vincitore Matteo Dolfin quinta piazza per Scardella sesto per sesta per Capecchi settima per 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 Parisi scusatemi ottavo Alviti nono e Giani decimo chiuderà di Benedetto grande spettacolo anche nella super motard con due giri tiratissimi che hanno consentito a Geni Romano di portarsi in seconda posizione a danno di Narduzzi con Batelli che ha approfittato benissimo della parapiglia tra Narduzzi e Romano per scavalcare anche gli Narduzzi e aggiudicarsi il gradino più basso del podio Dolfin ha vinto senza discussioni questa gara nella bagarre il distacco è lievitato fino a sei secondi tra Dolfin e Romano e ora vediamo il primo piano di Matteo Dolfin che è fermo si prende i complimenti dei suoi meccanici con 816 è transitato Batelli col 60 c'è Romano che passa ora con numero due Narduzzi la moto di Narduzzi con il meccanico grandissima sfida grandissima gara nelle posizioni alle spalle di Matteo Dolfin che ha dominato la scena anche in questa gara due si prende anche i complimenti degli altri concorrenti che stanno arrivando adesso alla spicciolata nella pit lane ed ora Alessandra tira via Dolfin e se lo porta all'intervista di fine gara e con questo abbiamo finito lo streaming e la diretta dal circuito interzionale il sagittario di Latina dove si è disputata la selettiva centro per il CNV Motoasi organizzata dalla Demo Race vi ringrazio vi saluto Antonio Liberti e alla prossima con il CNV che ricordo sarà a Dortona il 31 luglio e poi a Viterbo la gara di chiusura il 17 di settembre